Ansa Voice Magazine Ci siamo fatti introdurre dal verso di un animale e questo animale è un orso. Per questa puntata del podcast dedicato all'impero dei segni, cioè alle persone, agli oggetti, alle situazioni che vengono interpretate attraverso gli elementi della comunicazione, abbiamo pensato che fosse il caso, perché è una cosa in realtà ancora più ricca di quello che potrebbe sembrare, di dedicare appunto uno spazio all'orso, che è stato protagonista della cronaca, ma non solo della cronaca, cioè originando dalla cronaca è protagonista di un acceso dibattito, con noi per aiutarci a decrittare dal punto di vista dei segni e della comunicazione quello che ci dice la situazione, quello che ci dice in questo caso l'orso e quello che diciamo noi intorno all'orso, c'è di nuovo Alberto De Martini che è CEO di Conic e che è un esperto di comunicazione, un saggista e anche un docente universitario. Bentornato Alberto. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Ciao, allora mettiamo subito sul piatto la questione, abbiamo visto che intorno alla questione dell'orso JJ4, come già cinque anni fa, intorno a M49, naturalmente si è scatenato un dibattito che definirei molto polarizzato, se la parola polarizzato accostata a orso non facesse anche un po' ridere in un certo senso, perché fa pensare all'orso polare, e cioè ci sono gli amici degli animali, chiamiamoli così genericamente, che tendono ad essere un po' integralisti, ma in realtà anche gli altri, cioè quelli che affermano l'inevitabile superiorità dell'uomo e quindi della società antropizzata e quindi di un elemento della società che è vittorioso, che è l'uomo e al quale quindi tutti gli altri devono in un certo senso adattarsi. Diciamo subito una cosa, come facciamo sempre in questo podcast, non stiamo qui per prendere posizione, casomai stiamo qui per capire perché la figura dell'orso scatena questo tipo di polarizzazione, anche al di là delle posizioni che potremmo chiamare in senso lato politiche, in un certo senso. Quindi non si tratta di decidere se è giusto eliminare JJ4, abbatterla, oppure se è più giusto che ci siano tanti orsi nelle montagne del Trentino, in quelle dell'Abruzzo eccetera, non è questo il punto. Mi sembra Alberto che in realtà questa polarizzazione, che ripeto è una polarizzazione di tipo quasi politico, però rispecchi anche il sentimento ambivalente che inevitabilmente la figura dell'orso ci ispira, è così? Ma non c'è dubbio, ma intanto bisogna cominciare a dire che l'orso è un personaggio formidabile, potentissimo nella nostra storia, nella nostra cultura, nel nostro costume, moltissimi animali hanno rivestito o è stato assegnato un ruolo simbolico, ovviamente, nella storia e la cultura, delle religioni, basta pensare al serpente e tanti altri. Ma certamente l'orso è uno dei grandi protagonisti di questo casting di animali ad alta valenza simbolica. E visto che tu hai parlato del gioco di parole, della polarizzazione delle opinioni, beh, c'è anche la stella polare che fa parte delle costellazioni dell'orse, quindi abbiamo un orsa maggiore e un orsa minore che tutte e due stanno lì anche a indicare, come dire, la cosa, il modo più importante, il più chiaro per tutti i naviganti di una volta, quando non c'era il GPS, per muoversi sul territorio e nel mare. Quindi la stella polare fa parte dell'orsa minore ed è indicata poi dall'orsa maggiore, prolungando due delle stelle della costellazione. Non solo, ma Arturo, significa guardiano dell'orso, è la stella che sta appresso alle due orse e che, come dire, sta lì a guardare le orse, a fare da guardiano. Arturo vuol dire quello e tra l'altro vuol dire quello perché il nome originario di orso era Arctos ed è interessante vedere che Arctos è artico, viene da Arctos, quindi è l'artico che viene dall'orso e non viceversa, quindi insomma una cosa, mette lì una roba importante. Poi c'è un culto dell'orso, per esempio, presso la popolazione degli A in un popolo giapponese che ora è stinto, che lo consideravano una sorta di divinità. Ma anche i nativi americani, per esempio, gli attribuivano una simbologia importantissima nell'area della risurrezione addirittura, perché, come sappiamo, l'orso va in letalgo quando si sveglia. Per noi, che sappiamo già tutto, non è una sorpresa, ma immaginatevi per un uomo dell'antichità, insomma, una bella sorpresa vedere un animale morto, apparentemente morto, che si risorge, poi c'è l'orso d'oro che è il premio del Festival di Berlino, d'altra parte l'orso è simbolo della città di Berlino, ma è anche simbolo di Berna ed è anche simbolo della Russia. L'orso russo, esatto. Grande attualità. Poi noi diciamo essere un po' orsi per indicare la timidezza, ci torneremo su questa timidezza presunta dell'orso. E poi, non so, l'orso è il ribasso in borsa, mentre il toro è il rialzo. Insomma, è un personaggio che sta un po' dappertutto nel nostro modo di guardare la realtà. Tra l'altro la spiegazione del ribasso, che è stranissima, ammesso che sia quella giusta, è il fatto che, a differenza del toro, che attacca dal basso verso l'alto, l'orso attacca abbassando dall'alto verso il basso. Ed è il motivo per cui sembra che sia legato all'ità del ribasso. Quanto alla costellazione, lo dico solo di sfuggita, perché nonostante l'orso sia importante soprattutto nelle culture nasca, diciamo importante soprattutto nelle culture dell'Asia e dell'America, però tu hai giustamente citato anche l'origine della parola, che ha una radice greca anche, e la costellazione dell'orsa nasce da uno dei soliti pastrocchi combinati da Zeus, perché Zeus è attirato da una donna, come spesso gli è capitato, poi deve accettare di poterla salvare fissandola nelle stelle, perché naturalmente aveva fatto arrabbiare Hera, cioè tutta la tipica storia di Zeus, la maggior parte delle cose che lo riguardano sono sostanzialmente tutte nate dal fatto che lui non riesce a trattenersi e combina dei guai di tipo, diciamo, legati in genere all'istinto sessuale. Non aveva un buon rapporto con le donne. Col femminile, esatto, pare di no. Comunque, scusami, t'ho interrotto e invece stavamo arrivando al punto per cui l'orso, oltre ad essere un personaggio di grande importanza come abbiamo descritto, è anche uno straordinario oggetto di empatia, lo sappiamo, un animale molto amato di per sé stesso e nelle sue rappresentazioni. Poi vedremo anche temuto, ma intanto molto amato. Prima di tutto è l'orsacchiotto, lo sappiamo, è l'oggetto che il famoso psicologo Winnicott definì l'oggetto transizionale per eccellenza. Transizionale vuol dire che rappresenta la transizione, il passaggio nella vita del bambino dal mondo psichico, cioè interno al mondo esterno, cioè dalla soggettività esisto solo io all'oggettività esiste un mondo fuori. Ecco, e l'orsacchiotto è uno degli oggetti, ma diciamo quello più utilizzato, uno dei più utilizzati dai bambini, per accompagnare il bambino stesso in questa delicatissima transizione in cui si rende conto che c'è un mondo fuori e siccome la mamma non può accompagnarlo in tutta la durata della giornata e della notte, allora c'è una specie di medium, di mezzo che riesce a aiutare il bambino in questa importante transizione. E questa importanza per il bambino poi è rispecchiata da personaggi come Winnie the Pooh, come Paddington, come i famosi Yogi e Gubu, insomma che quelli della nostra generazione si ricordano nel Bracobaldo Show di Antica Memoria. Poi c'è Coda, fratello Orso, in un classico di Walt Disney, insomma e molti altri, credo che anche tu, anche a te risulti molte di queste cose. Ovvio, senza contare che quello che tu hai detto soprattutto all'inizio parlando dell'oggetto transizionale è stato come dire cristallizzato in qualche modo nel celeberrimo Teddy Bear che tra l'altro nasce da una situazione molto particolare, perché Teddy sarebbe Theodore e cioè Roosevelt, il presidente americano, che era un appassionato di caccia degli orsi ma a quanto pare non era un granché come cacciatore e una volta, almeno questo racconta la leggenda, una volta gli prepararono un orso legandolo a un albero in modo tale che lui non potesse fallire, ma il presidente esitò, tra l'altro c'era anche questo aspetto nella personalità di Roosevelt che viene messo molto in rilievo, cioè il tentennamento, esitò e non volle uccidere l'orso. Questo però scatenò la fantasia di due commercianti che in realtà non si occupavano affatto né di peluche né di giocattoli, ma di tutt'altro a riprova del fatto che, come abbiamo qualche volta detto, le grandi idee nascono dal pensiero laterale e questi che si occupavano di altro inventarono l'orsacchiotto, diciamo così, come oggetto per i bambini e gli diedero nome Teddy Bear proprio in riferimento al presidente Roosevelt e ha avuto una fortuna direi enorme che continua ancora oggi. Un nome apparentemente illustre che però risale a un episodio molto imbarazzante, molto triste, anche se poi quell'orso si è salvato, speriamo. Sì, sì, immagino di sì, visto che il presidente non ha sparato, però non ci dicono. Dicevo, i motivi, ecco, abbiamo parlato quindi di polarizzazione e del fatto che c'è da un lato il simbolo della potenza e anche il fatto che incuta ovviamente timore anche per la stazza e come hai detto tu anche perché in tempi antichi evidentemente quando uno non conosceva, esattamente gli uomini non conoscevano esattamente il comportamento degli animali e quindi l'alternanza dell'etargo e del risveglio se lo vedevano presentare davanti all'improvviso. Ma i motivi dell'empatia, diciamo, i motivi per cui alla fine l'orso che chiamiamo infatti molto spesso orso, sacchiotto non a caso, ci sta in qualche modo simpatico. Ancora oggi, ancora in questi giorni, quando lo vediamo, e lo vediamo perché la televisione passa più o meno sempre le stesse immagini di orsi che se ne vanno per i boschi e noi sappiamo che tutto questo è dovuto però al fatto che è successo un incidente tragico dove è morta anche una persona, però quando lo vediamo in un certo senso abbiamo quel modo di simpatia che probabilmente si riconnette anche alla nostra infanzia. Quali sono, Alberto, gli elementi di questa innata simpatia? Beh, ce ne sono parecchi e effettivamente questa grande empatia verso l'orso come animale, come simbolo, è sicuramente alla base anche del livello della polemica e della discussione, perché non credo che se si fosse trattato di un'orata o di un barracuda sarebbe scatenato tutto ciò che si sta scatenando. Sicuramente è l'orso per le sue caratteristiche e la prima dell'empatia che genera l'orso sicuramente è la più semplice da dire che è un mammifero, no? Noi abbiamo molta più empatia per i mammiferi che per gli altri tipi di animali perché ovviamente sono più simili a noi, no? Cioè anche molti che mangiano un vegetariano e mangiano il pesce ma non mangiano la carne, diciamo, rossa, bianca, eccetera, è molto dovuto proprio all'empatia con i mammiferi, altre c'è anche la salute, c'è l'ecologia, c'è tante cose, ma sicuramente anche questo. Ci fa meno impressione mangiarci un branzino che mangiarci un agnello, ecco, il fatto che siamo mammifero conta. Poi è molto simpatico perché viene considerato timido, no? Dicevo prima sono un po' orso e questo è dovuto al fatto che è un animale solitario alla fine, non è un animale di branco e vive appartato e quindi passa per essere un timido, ma questo è anche associato alla sua goffaggine, no? Cioè si muove in modo goffo. Poi in realtà è velocissimo e sa essere anche molto aggressivo come sappiamo purtroppo, però è goffo, quando lo vedi muoversi non ti dà un'idea di armonia come quella di una leonessa, tanto per dirgli, un felino. E quindi questo te lo rende anche simpatico. Poi una cosa molto importante, secondo me centrale, è la sua somiglianza in qualche modo con degli elementi che si rifanno all'infanzia dell'essere umano, al bambino. Basta pensare a come cammina, è come se gattonasse, c'è quel movimento un po' goffo come i bambini quando gattonano a quattro zampe. E in più, a completare questo paragone, questa similitudine, lui è anche capace di sollevarsi in piedi, proprio come fanno i bambini quando arrivano circa un anno di vita che gattonano e poi sono anche capaci di alzarsi. E poi mantiene anche da adulto quelle caratteristiche che sono tipiche del cucciolo. Cioè noi sappiamo ormai che il cucciolo, sono fatti in un certo modo più o meno tutti i cuccioli degli animali, soprattutto dei mammiferi, hanno delle caratteristiche che servono molto all'evoluzione perché gli animali capiscono che sono cuccioli anche se appartengono ad altre specie. Cosa sono queste caratteristiche? Sono delle sproporzioni. Cioè noi sappiamo che gli occhi, anche noi esseri umani, non cambiano dimensione, non crescono quando cresce tutto il resto. E quindi è ovvio che quando siamo piccoli gli occhi sono troppo grandi in proporzione al corpo. E questa è una delle caratteristiche tipiche dei cuccioli. Ma non sono solo gli occhi, per esempio nei panda, questa è una caratteristica clamorosa, che in realtà non sono gli occhi, sono le macchie nere che stanno attorno agli occhi, li fanno sembrare così grandi e gli danno quell'espressione un po' da cucciolo, da bambino, anche se sono delle bestie gigantesche. L'orso, invece l'orso bruno, diciamo, ha queste zampe. Ecco, anche questa è una caratteristica. Quando i cuccioli dei cani ci fanno così tenerezza, spesso vediamo, ma guarda che zampotte grosse che hanno, no? Sono più grosse di quello che dovrebbero essere, perché si sono portati avanti. Ecco, anche nell'orso ti dà un po' questa sensazione che le zampe siano troppo grandi per l'animale che ci sta sopra. E poi c'è anche il fatto che sa stare in piedi, cioè tra i quadrupedi è quello che sta in piedi più facilmente. Si mette in piedi, un po' per far paura, un po' per prendere magari delle bacche o dei vegetali, e poi sta anche seduto. Ci sono moltissime fotografie, molte immagini, ma anche dei circhi, degli orci seduti come degli esseri umani che stanno lì a guardarsi intorno. Secondo me, tornando al nostro orso, invece, un'altra cosa che fa molta tenerezza, secondo me, a chi sta, diciamo, dalla parte dell'orso, mettiamola così, è anche il fatto che sia abbinato a un numero. Questo fa molta impressione, no? Proprio perché è così umanizzata la nostra idea dell'orso, poi il fatto che sia contraddistinto da un numero fa impressione, aumenta quest'idea di prigione, di galera, di ghettizzazione, che per molti è oggetto di scandalo. È vero, anche se il numero poi alla fine deriva da un elemento di semplificazione della contabilità e dell'identificazione. Perché per esempio JJ4 è semplicemente il risultato del fatto che è figlio di due orsi che si chiamano Giose e Giurca e entrambi quindi iniziano con la JJ ed è il quarto di questi due. Così come anche... JJ4 non è neanche male perché sembra un po' il nome di un rapper, no? Un po' la fiera. Sì, sì, sì. Invece M49 era già più... Quello sembra proprio una mitragliatrice. Sì, è vero. E tra l'altro su M49 c'è un'altra storia che si inserisce bene nelle cose che hai raccontato tu, perché tu hai ricordato giustamente che orso è un'espressione che noi usiamo per dire una persona un po' introversa che se ne sta per conto suo. E in effetti esiste un'altra espressione per indicare questo tipo di persone che è l'orso mal leccato. Perché la leggenda vuole che l'orso all'inizio, l'orso piccolo, sia ancora in un certo senso informe e ancora più timido e che soltanto il fatto che la mamma lo lecchi molto lo possa poi portare ad essere quella figura di orso definitivo che poi può andare diciamo così nel mondo. Quindi l'orso mal leccato è qualcuno che non ha avuto abbastanza coccole in qualche modo, non ha avuto abbastanza affetto dalla mamma. Mentre invece l'altra questione che anche quando si scatenò la polemica su M49 che riguarda appunto M49 che riguarda gli orsi in generale è il fatto che devono invece avere accanto degli altri maschi, soprattutto il genitore maschio, perché il rapporto tra il genitore maschio dell'orso e il figlio non è come quello tra gli umani, soprattutto oggi che abbiamo alle spalle decine di anni diciamo così di psicologia e pedagogia. Cioè semplicemente lì si picchia duro. Quindi l'orso impara che ci sono dei limiti, impara come si deve muovere e soprattutto dove si deve muovere, qual è lo spazio in cui gli è consentito muovere attraverso il fatto che c'è un'educazione piuttosto severa. M49 era solo, cioè non aveva, non era accompagnato da altri esemplari maschi e questo lo ha spinto a suo tempo addirittura a fuggire ed era diventato tra l'altro proprio per questo particolarmente sfrontato e particolarmente coraggioso. Quindi vabbè, questo era un elemento in più. Ma questo tra l'altro l'etologia ci insegna che questo succede in tutti gli animali, ovviamente anche negli esseri umani, quando tu hai un'educazione deficitaria poi ti porti dietro un sacco di problemi. Ma anche nei gatti, per esempio, i gatti che graffiano, a differenza degli altri che dicono, ah quello lì è molto buono, non tira fuori le unghie. Ma anche questo dipende dai primissimi giorni di vita. Se un gatto sta a contatto con la mamma e con i suoi fratelli, tutte le volte che tira fuori le unghie si becca una legnata, ha una zampata e quindi impara a non tirarle fuori. Se invece va per i fatti suoi, non impara questa roba qui, continuerà a tirare fuori le unghie per tutta la vita. Esatto, esatto. Seti, ma ok, quindi abbiamo detto che però l'orso è anche oggetto di paura in tutto questo, no? Naturalmente. Questo tu hai detto soprattutto perché è veloce e letale se viene disturbato. E qui appunto è l'aspetto a cui abbiamo fatto riferimento. per la vicenda, diciamo così, di M49. Tra l'altro io avevo sentito un etologo parlato di questa storia in cui si diceva che non essendo stato educato da un altro maschio si era abituato a delle situazioni causate in realtà dall'uomo, per cui trovava sempre del latte o del formaggio da mangiare fuori ad un posto. Quindi aveva imparato a dosare molto e quindi anche a superare dei limiti, a superare dei confini e questo naturalmente poi lo porta a non regolarsi più, come diremmo noi, a non rendersi più conto. Intorno al nome... Il nome indica, tra l'altro, interessante il fatto che appunto il nome originariamente era Arctos, ma poi Arctos è diventato molto artico, antartico, ma si è persa la definizione Cioè, come dire, il collegamento con quella parola. Ma cosa interessante è che il nome Bear, che è il nome anglosassone, diciamo per orso, non viene da orso, ma viene da Bruno, cioè la stessa radice di Brown. E questo è dovuto al fatto che gli antichi avevano paura addirittura di nominare l'orso, quindi di chiamarlo Arctos, di chiamarlo con la sua radice etimologica più pura e quindi per non nominarlo, per non nominarlo con il suo vero nome, usavano lo stratagemma di usare il nome del suo colore, Bruno, da cui è venuto il nome Bear. Addirittura è terrore di evocarne la presenza nominandolo. Interessante questo. Bear però significa anche qualcos'altro. Beh sì, questa è un po' una chicca interessante in questo momento specifico, perché per motivi che non sono riuscito, qui non sono riuscito a risalire, però Bear in inglese, to bear vuol dire sopportare, quindi la stessa parola bear scritta allo stesso modo, è sostantivo, vuol dire orso e to bear vuol dire sopportare. Potremmo dire che in questo momento potremmo utilizzare questa coincidenza, se è una coincidenza, perché sembra valere come un invito, da una parte all'uomo e dalla parte all'orso, quando proprio non riescono o non possono, insomma, come in questi frangenti, amarsi a trovare almeno un modo per sopportarsi. Esattamente, infatti, che è questo, cioè un invito alla prudenza in qualche modo per tutti e due, quella prudenza che non ha evidentemente avuto M49 a suo tempo e che non sappiamo poi esattamente come sia andata, probabilmente non l'ha avuta neanche JJ4, visto che il runner correva su un sentiero dove di solito era possibile ed era consentito correre. Ok, direi grazie ad Alberto. Abbiamo detto parecchie, molte più di quanto uno si potrebbe aspettare intorno alla parola, intanto orso e anche poi a tutte le cose, a tutti gli elementi che evoca, che probabilmente spiegano molto di tutto quello che stiamo ascoltando, ma non solo leggendo sui giornali o ascoltando nei talk show, ma anche nelle chiacchiere, diciamo così, tra amici o al bar, che in effetti sono, cioè non conoscono in un certo senso le mezze misure. Ok, grazie Alberto di questa conversazione, ci risentiamo al prossimo podcast sull'impero dei segni. Grazie ancora. Grazie, grazie a te, a presto. Il signor Ranger ti sta chiamando, Yampi. L'ho sentito, Bubu. Io di solito, per paura, che voglia spedirmi via prima di andare da lui, rifletto su cosa possa aver fatto che non va. Stavolta però la mia coscienza è pulita. Non ho nulla da temere. Andiamo, Bubu. Adabadu, 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 dudu, 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 dudu.